Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Iniziamo con un aggiornamento sull'anziana di 92 anni trovata morta in casa. È stata esclusa una morte violenta, ma per l'esito dell'autopsia sul corpo di Carla Bazzani dovremmo attendere la prossima settimana. Intanto si aggrava la posizione della figlia già indagata per abbandono di incapace. L'anziana era stata ritrovata lo scorso sabato stesa sul letto con il lenzuolo a coprire anche la testa. La data della morte potrebbe essere tra i tre e i sei mesi fa. La figlia dovrà anche rispondere di truffa. Gli uomini della squadra mobile guidati da Davide Comito hanno passato al setaccio i conto correnti bancari e i movimenti sulla pensione dell'anziana. Sarebbero emersi prelievi dopo la morte. La figlia, irreperibile per giorni dopo il drammatico ritrovamento e rintracciata dai poliziotti in un albergo di Rimini, non parla. Agli investigatori non ha saputo dire nulla riguardo la morte della madre né spiegare le ragioni del suo allontanamento. Ad assisterla l'avvocato Barbara Mugnai presente all'esame sui resti dell'anziana. Eseguiti anche gli accertamenti sulla carcassa dell'animale domestico. Un gatto, l'animale, è morto presumibilmente di stenti. Ancora cronaca, rientra e trova un ladro in casa. L'uomo è stato arrestato con la partner dopo un inseguimento. L'episodio è avvenuto ieri 5 settembre nei pressi della frazione di Olmo alle porte di Arezzo. La polizia di Stato, dopo un breve inseguimento, ha rintracciato i presunti autori del colpo. Un uomo e una donna a bordo dell'auto hanno ritrovato orologi, monili e contanti, verosimilmente provento del furto. I due, inoltre, sarebbero stati riconosciuti anche dal proprietario dell'abitazione. La coppia è stata arrestata. Torniamo adesso a parlare di un problema del quale si è dibattuto tanto e spesso, ovvero gli ungulati. Ci arriva un video, insomma, piuttosto curioso, da una nostra telespettatrice, ma il problema è davvero serio. Cioè, vi rendete conto dove sono? Eh? A mangiare i fichi? E non hanno paura di me? Siamo nella campagna aretina, non molto lontano dalla città. Il video, che ci invia una nostra telespettatrice, dove si vede un vero e proprio branco di cinghiali nel suo giardino, scorrazzare e fare incetta di cibo, sarebbe buffo e simpatico. Se il problema, però, non fosse davvero serio e importante, soprattutto per gli agricoltori e per la sicurezza stradale. Ora siete diventati un po' troppi. Risale a poco tempo fa, infatti, l'ultimo incidente, purtroppo mortale, nell'aretino, provocato, pare, proprio, da un ungulato. Era accaduto il 10 agosto scorso, a perdere la vita, un motociclista di 57 anni lungo la E45. Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, indagano i carabinieri, il motociclista stava percorrendo la superstrada quando si è trovato di fronte un cinghiale che l'ha attraversata. Queste sono ovviamente le conseguenze più gravi, ma gli incidenti stradali provocati da ungulati sono numerosi. E per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura, sono innumerevoli ormai le proteste, le prese di posizione e soprattutto le richieste di una gestione più incisiva della popolazione degli ungulati in Toscana, richieste rivolte ovviamente alle istituzioni preposte. Incidente stradale ieri nei pressi di Battifolle, lungo la provinciale 21, un ciclista è finito sul letto di un rio situato al confine tra la frazione e il casello autostradale. È stato recuperato dai vigili del fuoco di Arezzo, con mezzi e uomini hanno raggiunto il luogo appunto dove era caduto per prestare soccorso. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. L'uomo è stato trasportato dai sanitari al pronto soccorso. Parliamo adesso invece di asili e delle misure che sono previste proprio nel comune di Arezzo per facilitare le famiglie. Buona conciliazione per sostenere le spese educative domiciliari, start-up 03 per nidi private e dialogo pubblico con le famiglie. È questo l'annuncio del vice sindaco Lucia Tanti che arriva a poche ore dal suono della prima campanella. Nel 2015, dichiara, ci furono tre scelte politiche di forte rottura con il passato e adesso le nuove misure che permettono al sistema educativo Aaretino di centrare a breve l'obiettivo di liste di attesa zero su tutta la fascia 06, obiettivo previsto per il 2026-2027. Si parte dunque dal buono conciliazione 2.0. A quelle famiglie cui bambini da 3 e 12 mesi sono rimasti fuori dal nido sarà riconosciuto un contributo economico sino a 2.000 euro per sostenere il costo aggiuntivo della babysitter. Nasce poi la nuova misura Start-up 03, un contributo a fondo perduto di 6.000 euro per il primo anno di attività dedicato a chi apre un nido privato accreditato. Genitori protagonisti 03 invece è un filo diretto con le famiglie ogni ultimo venerdì del mese a partire da ottobre 2024 così che i genitori possano esprimere critiche e dare suggerimenti. Tre azioni che si sommano a scelte già programmate come nuovi investimenti conclude Lucia Tanti dal nido Colombo i cui lavori procedono speditamente sino ad ulteriori accordi con privati accreditati. Dopo il caso San Giuliano e le sue dimissioni il nuovo ministro è Alessandro Giuli, ministro della cultura peraltro era atteso proprio ad Arezzo per la rassegna Alti Scaffali organizzata dalla fondazione Guido d'Arezzo quindi c'è un grande fermento per capire se appunto il neo ministro della cultura confermerà la sua presenza proprio ad Arezzo potrebbe essere una delle sue prime uscite pubbliche. Una nuova seduta del Consiglio Comunale convocata per giovedì 12 settembre ad Arezzo la giornata potrà essere seguita come sempre in diretta sul sito, sul canale YouTube dell'ente all'ordine del giorno oltre alle interrogazioni l'elezione del Presidente della Commissione Bilancio la delibera di iniziativa consigliare per la costituzione di una commissione speciale competente sul decoro e qualità urbana e tre pratiche urbanistiche. Adesso siamo alla pagina invece dedicata agli eventi iniziamo da Castiglion-Fibocchi perché proprio domani, sabato 7 settembre torna la rievocazione dell'antica battitura del grano. Celebriamo il grano, quindi il pane e il lavoro e il progresso dell'uomo. Torna nel borgo di Castiglion-Fibocchi, nell'Aretino, la rievocazione dell'antica battitura del grano. Sabato 7 settembre alle 16 il Camai, con i suoi mezzi storici, darà vita ad una delle scene più belle delle tradizioni contadine. Innanzitutto la macchina a vapore, che è quella da quale nasce proprio l'energia e poi la trebbiatrice. La trebbiatrice è la prima macchina, la vera macchina che arriva nei campi, arriva nelle aie a battere il grano. La macchina a vapore poi, che era molto ingombrante, verrà sostituita dal trattore, principalmente il trattore a testa calda, e quindi è una grande festa del grano che poi si concludeva proprio a tavola, con il desco contadino dell'epoca. Alle 19 ci sarà la sfilata dei trattori d'epoca, che si concluderà proprio in Piazza delle Fiere, dove verrà consumata una cena che rispetterà le tradizioni toscane. È in programma sempre per domani, ma questa volta in Via Romana. Via Romana in festa, l'iniziativa organizzata da Confesercenti. Dalle 18 in poi fino alla mezzanotte, l'arteria di ingresso in città si trasformerà in un'accogliente isola pedonale. Le auto dunque lasceranno il posto agli spettacoli e al passaggio della gente con i negozi aperti. Le attività daranno il benvenuto a tutti i visitatori e sarà davvero una festa sia per i commercianti ma anche per gli abitanti della zona. È stato invece rimandato a domenica 15 settembre, ci doveva essere l'otto, quindi domenica prossima, l'iniziativa Arti in Ponte, a causa delle previsioni meteo che insomma non sono favorevoli. E allora domenica prossima 15 settembre, l'iniziativa arriverà appunto a Ponte Buriano, sarà un giorno di festa con gli artisti che saranno proprio nel Ponte Romanico, la festa degli Aquiloni e un mercatino dedicato al handmade e al vintage. Pensando invece al Natale è stato aperto il bando per coloro che vorranno usufruire delle casine al Prato. La Fondazione Arezzo in Tura ha iniziato le procedure per organizzare l'edizione 2024 di Arezzo, città del Natale, che tra le varie iniziative vedrà la proposta di un mercato delle arti che si svolgerà all'interno del grande villaggio di Natale, aperto dal 16 novembre al 6 gennaio 2025. È stata così aperta una manifestazione di interesse rivolta agli espositori interessati alle casine di legno che verranno allestite nell'area del Prato. Le domande dovranno pervenire entro lunedì 23 settembre 2024 alle ore 14 tramite il modulo disponibile sul sito internet della Fondazione Arezzo in Tura a partire da venerdì 6 settembre. Nel caso si voglia manifestare l'interesse a più casine per attività diverse, sarà necessario compilare una domanda per ciascuna delle attività proposte specificandone la tipologia. Costituiranno elemento di preferenza nell'assegnazione l'essere soci della Fondazione Arezzo in Tura al momento della domanda e l'anzianità di associazione, la partecipazione alle precedenti edizioni, la sede dell'attività nel comune di Arezzo ed ancora la valorizzazione di prodotti del territorio e la minimizzazione dell'impatto ambientale, la correttezza dei pagamenti e dei comportamenti tenuti negli anni precedenti. Per le attività alimentari sarà data priorità ad una casina esclusivamente gluten-free e una vegetariana vegana. Il periodo di apertura sarà indicativamente dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. L'orario e le date di apertura definitivi saranno comunicati entro il 18 ottobre 2024. E siamo allo sport, partiamo da questa bella avventura che tra l'altro ci vede protagonisti proprio come emittente, ovvero il memorial, terzo memorial Paolo Rossi, che si sta giocando in questi tre giorni, terminerà domenica 8 settembre nel Valdarno Aretino, ieri al Politeama di Montevarchi, la serata inaugurale. Qual è l'emozione di ricordare un papà così grande? Voi avete dato anche l'anno scorso il calcio d'inizio, ma lo avete dato anche stasera in maniera sicuramente quasi simbolica, no? Sì, è bellissimo vedere tutte queste persone, tutte queste squadre che sono qui a ricordare il papà. Sì, è bellissimo che poi qui è dove siamo cresciute noi, quindi è ancora più bello vedere tutte queste squadre da tutto il mondo che sono qui per lui. Un po' di emozione. Sì, un po' più. Arete anche quest'anno il calcio d'inizio? Sì. Emozionate ma felici le figlie del grande campione Paolo Rossi alla cerimonia di inaugurazione del terzo memorial intitolato al campione del mondo scomparso quattro anni fa. Davvero una grande emozione vedere così tanti ragazzi tutti insieme giocare nel ricordo di Paolo e soprattutto portando avanti quelli che erano i suoi principi, i suoi valori, e quindi fa davvero tanto piacere. Il memorial, fortemente voluto dalla moglie Federica e organizzato dall'Accademia Paolo Rossi, porta nel Valdarno Aretino oltre 500 giovani calciatori che fanno parte dei più blasonati club italiani e internazionali come Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Real Madrid, Porto, Slavia-Praga ma anche squadre del territorio. Alla presentazione anche un pezzo di storia del calcio italiano, mister Arrigo Sacchi. Le tre cose importanti per crescere. Uno, il buonsenso. La seconda, una grande volontà. terza, trovare degli allenatori che li trovano in punti neri e li aiutano a superarli. Quindi gli allenatori sono determinati. Quest'anno per la prima volta il memorial si è aperto al calcio femminile visto anche l'incarico di Federica Cappelletti alla guida della divisione di serie A femminile professionistica. L'obiettivo è quello di crescere e quindi di crescere anche per quanto riguarda il femminile e di aggiungere comunque anche altre squadre maschili. Colonna sonora di questa cerimonia ospitata dal Teatro di Montevarchi la banda dell'esercito italiano. Il memorial andrà avanti fino all'8 settembre con le finali e quindi le premiazioni ed è in diffusione mondiale grazie allo streaming sul sito di FIFA+. Estra entra in campo in senso figurativo ma comunque con un bel sostegno con l'Arezzo Calcio Femminile. Estra al fianco dell'Arezzo Calcio Femminile. La Multitility Toscana sarà infatti sponsor ufficiale per la stagione 2024-2025 con il suo logo presente sul retro delle maglie da gara ufficiali della squadra. Perché è una sfida, nella sfida lo sport per noi rappresenta uno degli ambiti di maggiore diciamo importanza come marketing, come investimenti, come sponsorizzazioni perché comunica lealtà, competitività, tutti quei valori a cui crediamo e che vogliamo trasferire anche come azienda. Dallo sport del calcio femminile è un settore speciale, sfidante, quindi complimenti all'imprenditore come Anselmi che ci crede e noi nel nome dell'inclusione vogliamo dare questo segnale importante su un ambito che è da specialisti, da appassionati veri che vanno oltre il pregiudizio della tradizione calcistica e guardano queste ragazze che spesso sono più forti e combattivi di tanti calciatori che oggi guardano più a aspetti estetici o di gossip e che magari meno si concentrano nel lavoro. Rappresenta una grande dimensione perché è un'eccellenza del territorio quindi noi siamo veramente onorati che un brand come Estra possa essere abbinato alla CF Arezzo che rappresenta appunto la città, il calcio femminile della nostra città e questo per noi è sicuramente motivo di orgoglio e una grande energia in più per tutti gli imprenditori aretini che appunto possono fare questa scelta per una progressione continua del calcio femminile. E' una realtà in crescita quella del calcio femminile, appena iniziato il nuovo campionato di Serie B con quale auspicio? Il campionato è sempre più complesso, ogni anno che appunto parte ci rendiamo conto che la crescita è esponenziale e quindi noi ad oggi siamo riusciti a mantenere quel livello diciamo comunque importante dove ci giochiamo tutte le partite anche se ci sono grandi squadre organizzate per andare in Serie A. Noi ci vogliamo divertire principalmente. Ed infine parliamo dell'Arezzo Calcio che sta per affrontare il Pineto dopo la sconfitta appunto contro il Pesaro e ormai alle spalle ha detto mister Troise nella consueta conferenza stampa a Pineto però mi aspetto una reazione forte. Settimana più corta rispetto al solito dove l'abbiamo organizzata come normale che sia in quella che è stata la prima parte di recupero giocando lunedì sera nella seconda parte ecco ci siamo dedicati a quella che era la partita di domani altrettanto importante e dove anche quella scorsa nonostante il risultato la prestazione l'abbiamo parlato inaspettato sotto tono per come è arrivato poi ci ha dato degli spunti per ripartire in un ciclo diverso dove comunque ci vede in un certo senso a riassestare quello che è stato un primo periodo di mercato aperto di nuovi acquisti di giocatori che sono andati via quindi una squadra deve avere anche questa capacità di comprendere e scindere questi periodi noi abbiamo iniziato appena uno nuovo e ho visto i ragazzi insomma consapevoli di quello che è successo e di quello che dovrà essere domani soprattutto in termini di performance di prestazione a livello di mentalità. Allora per quanto riguarda Damiani come è stato anticipato la settimana scorsa sarà un periodo un po' più lungo di recupero rispetto a quello che si pensava quindi avrà dei tempi un po' più lunghi per quanto riguarda Chiosa farà un ulteriore esame inizio settimana prossima per poi valutare il rientro quindi non sarà disponibile per quanto riguarda Montini idem non sarà disponibile in quanto insomma ha subito questa questa influenza un po' sulla farsa riga di quella che ha subito Gaddini qualche settimana fa e quindi rientrerà credo inizio settimana prossima. Sul discorso di Ogunse è un po' quello che dicevo prima la capacità di trovare un assestamento in questa parte qui nei nuovi inserimenti e nelle uscite sono giocatori che comunque hanno disputato parzialmente la parte pre-ritiro senza giocare partite quindi chiaramente manca un po' di ritmo gara e sta a me i compagni e anche ai momenti comprendere quelli che devono essere degli inserimenti adeguati per portarli in condizione ma allo stesso tempo funzionali a quello che è l'esigenza della partita e sappiamo bene fare punti fare risultato e fare una partita insomma come vogliamo. Pinedo mi aspetta una partita diversa soprattutto da noi per quanto riguarda l'avversario ha utilizzato nelle ultime gare un 3-4-3 cambiando da una difesa a 4 più utilizzata da mister Cudini rispetto al passato è una squadra di giocatori brevilini che predilige giocare palla a terra innescare gli uno contro uno con i vari del sole bruzaniti sugli esterni quindi sarà una partita impegnativa da quel punto di vista comunque anche di giocatori di esperienza in mezzo al campo come Amadio piuttosto che dietro abbinata a qualche giovane interessante vengono da due risultati dove non hanno subito gol non l'hanno nemmeno realizzato però ecco noi sappiamo adesso qual è l'obiettivo dell'avversario nel momento in cui ci incontra dobbiamo mettere in preventivo anche questo oggi incontrare l'Arezzo già è stato anticipato nelle partite di Coppa Italia è tangibile perché siamo una squadra che è cresciuta negli elementi in quella che appunto è la forza dell'organico e quindi dobbiamo essere consapevoli anche che dall'altra parte ci sarà un avversario che vorrà fare risultato come come giusto che sia e fare una partita importante al cospetto ecco ripeto di un Arezzo che vuole cambiare immediatamente vuole riprendere immediatamente isolando quella che è stata la partita di lunedì e quindi riprendere immediatamente quella che è stata la prima parte di Coppa Italia e il ritiro. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese e attenzione arrivederci.